ben ritrovati e ci ritroviamo qui per il per la sesta lezione la parola chiave qui è arte arte possiamo parlare di arte da molti molti punti di vista ma come si può pensare all'arte dal punto di vista antropologico vi condivido subito una slide dove ci sono soltanto immagini però ci aiuta un attimo a contestualizzare tutto il discorso ecco allora arte dal punto di vista antropologico provocatoriamente noi diciamo che l'arte in senso stretto non esiste non esiste perché l'antropologo francesco ronzon ci ricorda che quello che noi oggi intendiamo con il termine arte è un insieme locale di pratiche culturali che inizia forma che noi conosciamo l'arte che noi conosciamo intorno al 700 più o meno in Europa come con il progressivo affermarsi dei musei delle accademie dei dibattiti sull'arte sviluppati soprattutto da quelli che erano gli esponenti più colti delle classi agiate di quell'epoca e prima di tutto questo era l'utilità pratica che guidava la realizzazione degli oggetti non tanto quella estetica era l'utilità pratica che guidava la realizzazione degli oggetti delle performance perché arte sono anche le arti performative ed è solo intorno al rinascimento che inizia ad emergere dagli oggetti anche un significato espressivo e più tardi ancora con la borghesia commerciale cosa succede che gli oggetti iniziano anche a diventare un simbolo del proprio status ovviamente economico e sociale come parlavamo di simboli l'altra volta all'arte è anche collegata l'idea di creatività ovviamente non c'è arte senza creatività ma se pensiamo alla creatività culturale noi la possiamo definire come quella possibilità che gli esseri umani hanno di produrre sempre nuovi significati a partire da quelli che sono i modelli culturali a loro disposizione quindi i modelli sono sempre gli stessi ma la combinazione la creatività viene proprio da questi nuovi significati che riescono a produrre gli umani quindi la creatività culturale è una capacità di produrre novità a partire dalla combinazione dalle trasformazioni di quelle pratiche culturali che già ci sono che già esistono anche in quei campi che non sono propriamente artistici come per esempio la scienza o la tecnologia anche lì si afferma molto la creatività culturale noi sappiamo quindi che la creatività culturale realizza dei prodotti produce qualcosa se consideriamo ovviamente due prodotti culturali di due culture diverse è anche possibile che quello che arte per uno non lo sia per l'altro parlavamo prima no che prima del settecento era l'utilità pratica a guidare no la realizzazione degli oggetti quello che può essere pratico per uno è arte per l'altro e viceversa infatti esiste per l'antropologia è un problema di traduzione dei significati di un oggetto che riveste un oggetto una performance un canto una danza che noi consideriamo arte magari non lo è laddove è stato prodotto questo oggetto questa danza questo canto quindi sicuramente possiamo iniziare a fare attenzione anche la traduzione dei significati significati ovviamente attribuiti a degli oggetti un altro punto importante riguarda il fatto che in occidente noi suddividiamo le arti secondo diversi criteri infatti in questo slide potete vederlo in primis noi le dividiamo in arti visive e non visive quelle visive ovviamente comprendono le arti plastiche come la scultura l'intaglio la ceramica comprendono anche le arti grafiche come la pittura il disegno ma volendo anche la danza il teatro il cinema la televisione sono delle arti visive mentre quelle non visive consistono nella poesia nell'oratoria nella musica nel canto e con questa suddivisione però noi non riusciamo ovviamente a cogliere quelle che erano le motivazioni le intenzioni espressive di quegli oggetti di quelle performance le motivazioni le intenzioni noi non le non le riusciamo a cogliere con questa categorizzazione che l'occidente fa esco un attimo da questa slide quello che però è sicuramente un tratto universale dell'umanità è l'espressione estetica l'esprimere un'estetica quindi che produce proprio quello che noi definiamo arte l'estetica in greco significa percezione deriva dal greco che significa percezione gli studi ci mostrano che in ogni cultura ci sono dei modi di accostare forme colori suoni parole movimenti del corpo che producono uno stato percettivo particolare in chi li vede ma anche in chi li esegue e chi li ascolta eccetera eccetera questo stato percettivo questa sensazione è in grado di stimolare delle reazioni degli stati d'animo che sono ovviamente diversi da quelli che si sperimentano nella vita ordinaria e per far sì che questo stato percettivo particolare venga prodotto è necessario che le persone siano disposte anche a farsi cogliere da questo tipo di stati d'animo e anche che si soffermino a sufficienza su quell'oggetto su quella performance ovviamente in questo modo noi avremo elaborato anche una percezione estetica facendo così per definire bello brutto oppure né bello né brutto quell'oggetto quella performance quindi questo giudizio la valutazione estetica il senso estetico sarà in parte un fatto soggettivo derivante dalla propria personale percezione esperienza vissuto dall'altro sarà in parte collettivo proprio perché proviene da una cultura che è condivisa e attraverso cui noi guardiamo ok ricordiamoci sempre che la nostra cultura è un po' come un paio di occhiali con delle lenti colorate a seconda di dove proveniamo vi faccio ad esempio vi faccio un esempio prima che i musei diventassero quei luoghi per forti gruppi in cui vedere osservare guardare a distanza un prodotto storico culturale esistevano dei musei o meglio delle camere delle meraviglie si chiamavano in cui gli oggetti potevano anche essere toccati manipolati sfiorati annusati ovviamente per meno persone poi andando avanti con la massificazione direi di questa o questa fruizione dell'arte in occidente ci si è diciamo un po più concentrati sull'aspetto visivo la visione gli occhi il senso della visione per l'occidente è fondamentale ed è su questo che si basa la fruizione dell'arte per noi soprattutto non possiamo andando in un museo toccare qualche oggetto ci sono addirittura le transenne per cui non si riesce in altri luoghi del mondo questo non accade così come non accadeva un tempo da noi così come la percezione anche l'espressione estetica ha una natura culturale ovviamente possiamo parlare di significati estetici perché perché non tutte le società praticano quelle che per noi sono arti ma tutte producono un oggetto o una performance che è capace di generare in chi è destinatario una reazione estetica quella di cui abbiamo parlato un momento fa e questo succede perché come per qualsiasi altro modello culturale anche un modello estetico è introiettato è incorporato è condiviso dai membri di uno stesso gruppo culturale non parliamo ovviamente dell'aspetto estetico fisico ok lo sappiamo benissimo di quanto anche la bellezza fisica di un uomo o di una donna siano legati inconsciamente a un modello culturale del luogo in cui proveniamo dal luogo in cui proveniamo quindi ecco che la produzione estetica degli oggetti artistici in questo caso la produzione estetica di una cultura è collegata in qualche modo ai valori, alle visioni del mondo ai modi di sentire, di percepire che sono tipici di una data comunità inoltre ovviamente l'arte non è mai separata dal contesto sociale, politico, economico che la produce e intrinsecamente quindi è legata alle dinamiche sia interne che esterne di un gruppo culturale di quelle che sono le relazioni interne ed esterne Ungo Fabietti ci fa diversi esempi e ci scrive l'atteggiamento verso l'espressione estetica può cambiare con le epoche e con la temperie politica del momento i nazisti disprezzavano ad esempio l'arte moderna soprattutto quella stratta qualificandola come degenerata in quanto secondo loro la scultura e la pittura dovevano produrre essenzialmente rappresentazioni degli ideali razziali tedeschi Nell'Unione Sovietica all'epoca di Stalin era incoraggiata l'arte che esaltava lo sforzo del popolo sovietico per la costruzione di una società socialista Oppure alla fine degli anni 90 i musulmani integralisti afghani dell'Afghanistan distrussero con le adinamite le celebri statue di Buddha intagliate nelle rocce della valle di Vambian più di duemila anni fa e questo in omaggio all'idea secondo la quale riprodurre soggetti umani e animali è un atto sacrilego in quanto tentativo di imitare sfidandolo Dio e questo atteggiamento definito iconoclasta però non è esclusivo della tradizione musulmana anzi il cristianesimo nelle sue varie declinazioni ha conosciuto anch'esso momenti iconoclasti oggi ammiriamo ad esempio le immagini dipinte ornate di porpora e d'oro che ci vengono dalla tradizione dell'arte sacra bizantina ma queste immagini o icone ci sarebbero giunte in numero notevolmente superiore se non fosse stato che nel secolo VIII esse vennero fatte distruggere dagli imperatori e anche da una parte del clero bizantino iconoclastia come venne chiamata la risoluzione di distruggere le immagini sacre ebbe origine nel tentativo di contrastare certi atteggiamenti ritenuti eccessivi da una parte del clero e dall'imperatore d'oriente alcuni fedeli sembravano infatti scambiare l'immagine di Gesù e dei santi con il vero oggetto di venerazione giungendo a grattare i colori con cui erano dipinte le icone per mescolarli al vino della messa questo è quello che scrive Fabietti nel riportarci qualche esempio quindi possiamo vedere che non tutte le culture sviluppano allo stesso modo le arti quelle che noi chiamiamo arti ad esempio in alcune culture si è sviluppata più la scultura in altre la pittura, in altre ancora la danza e così via si parla infatti di selezione estetica come nell'arte africana ad esempio che si è concentrata soprattutto sulle arti visive e in particolare sulla scultura parlo di arte africana ma è comunque una categoria generica ovviamente che in realtà racchiude una varietà estrema di forme in cui poi si è tradotta la sensibilità estetica di quei popoli e ad esempio quelli della regione subsahariana vi faccio un esempio concreto i pali totem delle culture dei popoli indigeni del nord America le splendide e imponenti sculture di legno vi ricondivido velocemente così le vedete c'è solamente un'immagine ma comunque è significativa questo esattamente in alto a sinistra è un totem un totem è un essere una categoria di esseri con cui un gruppo umano si considera in particolare il rapporto di parentela parliamo di parentela ok il totem è un simbolo di parentela il termine totem è stato introdotto da un viaggiatore inglese del 1791 long e deriva dal termine ototeman e nella lingua degli Ojibwa che è un gruppo di indiani della regione dei grandi laghi nell'America settentrionale ototeman significa egli è della mia parentela quindi la funzione sociale di questi oggetti artistici che noi definiamo artistici in realtà è di riconoscersi nella parentela si parla di totemismo infatti la forma più diffusa del totemismo è quella del clan che è un'estensione della famiglia coniugale ed è anche un raggruppamento di parentela unilaterale o madre o padre è costituito da varie famiglie un clan i cui membri sono legati da un unico capostipite dal quale discendono in linea paterna o materna e se due gruppi hanno lo stesso totem si ritengono tra loro strettamente imparentati e quindi cosa succede? evitano matrimoni tra di loro per non contrarre rapporti tra consanguini quindi se ci troviamo di fronte ad un oggetto o performance che viene da un'altra cultura l'arte etnica cosiddetta vale un po' la pena fare qualche riflessione su alcune dimensioni in cui viene a definirsi un prodotto artistico una sicuramente la dimensione della povertà scusate della proprietà a chi apparteneva a quell'oggetto? a quale gruppo sociale? a quale cultura? in quale relazione di potere si è potuto usufruire in un museo ad esempio di questo oggetto prendendolo dal luogo e dalle persone che l'hanno creato? qui si apre la questione anche del rimpatrio di oggetti sottratti alle popolazioni native infatti è solo dopo l'ultimo dopoguerra che si sono avviate una serie di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e anche delle battaglie legali per la restituzione degli oggetti ai popoli nativi possiamo anche riflettere sulla dimensione della commercializzazione della fioritura di un mercato di arte etnica sulla dissolvenza tra i confini dei confini tra consumo di merci da un lato e consumo di cultura dall'altro che rende il museo contemporaneo una specie di prolungamento dei grandi magazzini pensiamo a gift shop all'interno dei musei pensiamo anche alla dimensione della differenza tra arte e artefatto ad esempio nel ventesimo secolo la rapidità con la quale si è espanso e si è sviluppato il mercato di arte etnica è diventato anche una forma diciamo di mutamento culturale per i popoli per i popoli nativi che desideravano ricevere una legittimazione culturale in un momento di grande velocità e di conseguenza cercavano ovviamente anche una sopravvivenza nell'Ovest industrializzato e quindi così accettarono di trasformare la cultura in merce perché era l'unico l'unica dimensione di sopravvivenza quindi gli oggetti esotici cominciarono a fare il loro ingresso sul mercato perché erano richiesti inizialmente dai musei etnografici e parallelamente si sviluppa un mercato privato che andava fermandosi con delle mostre con i collezionisti con le riviste specializzate e così i prodotti dell'impulso estetico dei popoli nativi diventavano prima artefatto e poi arte perché perdevano autenticità perché erano destinati al mercato occidentale creati appositamente ad hoc per il mercato occidentale nel caso dell'arte etnica nell'America del sud occidentale ad esempio si verifica fin da subito alla fine dell'ottocento una oscillazione di potere tra gli umanisti collezionisti e i negozianti commercianti dall'altro lato i commercianti erano ansiosi ovviamente di sfruttare un mercato turistico che era in espansione e quindi cosa fecero? incoraggiarono la produzione di massa di questi oggetti etnici con tutti i cambiamenti tecnologici estetici estetici e culturali connessi mentre i collezionisti erano preoccupati di salvare le arti e i mestieri dalla commercializzazione e quindi cercarono di preservare inalterate le modalità di produzione tradizionale c'era un po' questa incongruenza nelle dinamiche di diciamo di sostenere la propria posizione qual era questa incongruenza? che il mantenimento della cultura estetica tradizionale si scontrava con le forze dello sviluppo economico della comunità e con la creatività culturale individuale c'era proprio uno scontro tra dinamiche storiche e questa volontà di mantenere inalterate le tradizioni nel tempo le due posizioni di collezionisti umanisti negozianti commercianti ci sono un po' avvicinate una volta che è stato capito il valore economico dell'autenticità per il mercato e una volta capita da parte dei collezionisti l'universalità del cambiamento anche in senso estetico per cui era anacronistico mantenere inalterate delle tradizioni che si comunque attuavano in un contesto storico ecco questa diciamo sono le dimensioni che si possono sempre guardare quando si pensa a un oggetto artistico o una performance ora vi vorrei accennare uno degli antropologi che hanno portato l'etnografia al grande pubblico con le esposizioni museali etnografiche e anche con l'istituzione di un dipartimento universitario di antropologia questo è Franz Boas che aveva studiato approfonditamente gli indiani Quachutl della costa nord-occidentale americana e propose un metodo museale per classificare gli oggetti etnici raggrupparli all'interno dei musei ed esporli nel modo più corretto possibile ma come potevano oggetti diversi essere raggruppati correttamente lui concluse che un esemplare etnologico non avrebbe potuto essere compreso al di fuori di ciò che lo circondava al di fuori delle altre invenzioni dei popoli a cui appartiene e degli altri fenomeni che influenzano quel popolo e le sue produzioni quindi secondo lui la soluzione ai criteri con cui raggruppare gli oggetti era un allestimento di collezioni rappresentative della vita di una sola tribù quindi una sola tribù rappresentata e raggruppata con specifici oggetti propri di quella tribù con la Chicago World's Fair viene utilizzata per la prima volta per l'esposizione museologica la scena di vita la scena di vita con manichini in costume rappresentativi di quel preciso popolo e nella quale erano messi in scena anche gli oggetti senza semplicemente giustapporli con etichette in evidenza no? vi faccio un esempio molto molto banale pensate al film una notte al museo con le rappresentazioni quelle sono scene di vita nella quale in una teca in una vetrina non si vede soltanto l'oggetto singolo ma la ricostruzione dell'ambiente che l'ha prodotto secondo Boas l'oggetto principale delle collezioni etnologiche dovrebbe essere la divulgazione la divulgazione del fatto che la civiltà non è qualcosa di assoluto ma di relativo e che le nostre idee e concezioni sono vere soltanto fin dove arriva la nostra civiltà al di fuori non lo sono ma c'è un altro aspetto del sensazionalismo portato dall'arte etnica che vorrei accennare perché è uno dei lati della nostra civiltà che non sempre si conosce personalmente quando ho studiato questo lato dell'antropologia dell'arte dell'antropologia museale veramente mi è rimasto molto impresso mi ha fatto riflettere anche sulle dinamiche dei rapporti con l'altro con lo straniero al giorno d'oggi non so se qualcuno di voi abbia mai sentito parlare dei freak show erano in voga tra il diciannovesimo secolo e la metà del ventesimo secolo erano degli spettacoli a pagamento nei quali venivano mostrate al pubblico persone o animali con l'aspetto insolito o deformato con Fineas Barnum raggiunsero l'apice della popolarità perché Barnum nel 1842 esibì il corpo mummificato della sirena delle Figi se qualcuno vuole cercare troverà lì sicuramente l'immagine un corpo mummificato metà scimmia la parte superiore e metà pesce la parte inferiore chiaramente è una finzione ma fece molto scalpore in quello stesso momento con Barnum nei circhi negli spettacoli è in voga anche la spettacolarizzazione di certe categorie di esseri umani come vi dicevo prima soprattutto con molto diversi dal solito o con deformazioni e malformazioni ecco quindi a partire dalla metà del XIX secolo diventa molto facile vedere tra le giraffe e gli elefanti le scimmie altri animali esotici reinventati in una natura ricostruita quella degli zoo diventa facile vedere anche uomini con costumi bizzarri e con rituali a volte spaventosi quindi non solo deformazioni ma lo straniero viene direi quasi deportato per diventare spettacolo infatti è in voga il mito del selvaggio ed è così che si definisce il noi occidentale rispetto all'altro inizialmente è il periodo in cui la massa viene in contatto con lo straniero e il primo rapporto e relazione che ha con lo straniero è questa un altro che viene importato esibito mostrato spettacolarizzato scenografato secondo le aspettative di un occidente che era bisognoso di certezze circa ovviamente il proprio ruolo di guida del mondo di civiltà superiore e quindi con il diritto di colonizzare e il diritto di esibire gli esotici che chiamavano le persone esotiche nei circhi negli zoo per addomesticarli prima di civilizzarli gli zoo umani così li chiamiamo diventano una vera e propria cultura di massa creano e definiscono il rapporto con l'altro in occidente lo fanno attraverso dei cancelli dei recinti delle sbarre delle gabbie che separa i noi occidentali dai selvaggi ed è così che vengono i primi contatti come vi dicevo della stragrande maggioranza degli europei e degli americani con le popolazioni esotiche prima di quel momento i viaggiatori i primi viaggiatori avevano riportato deportato alcuni esemplari esotici umani da ogni parte del mondo per esibirli nelle corti europee più grandi e poi nei musei delle curiosità delle curiosità cosiddetti pensate al mito di la storia di Pocahontas morta a Londra di malattia questa era una forma di rappresentazione ludica della forza dello strano del curioso della crudeltà sostanzialmente e quello che è del tutto nuovo in quel momento è l'esposizione di uomini differenti e inquietanti per il loro significato in termini di razza si parlava ancora di razza l'alterità cosa succede viene razionalizzata mentalizzata e definita in una forma di tipo razziale per cui il modello superiore è sicuramente l'europeo l'eurocentrismo infatti quello quell'etnocentrismo di cui abbiamo parlato qualche lezione fa quella posizionarsi che si mette gli occhiali di un europeo per guardare il resto del mondo questo l'eurocentrismo si fonda sulle è nato questa identità europea sulle angosce provocate dalla rapida evoluzione delle innovazioni scientifiche di quel momento e anche tecnologiche e dei bruschi cambiamenti sociali conseguenti e contemporanei ad esempio la scissione tra città e campagna l'innovazione delle reti dei rapporti dei trasporti la rapidità di circolazione la conquista delle terre coloniali l'accelerazione dei ritmi nel lavoro nelle città soprattutto la nascita del proletariato industriale e anche il dissolversi della solidarietà interna alle comunità o anche la nascita degli stati nazioni tutto questo è avvenuto nell'arco di pochi anni e questo rapido cambiamento ha ovviamente destabilizzato l'identità dei popoli europei che è andata a cercare un'identità europea basandosi proprio a partire da queste angosce del cambiamento e proprio qui questi rapidissimi diciamo e proprio sostanziali anche cambiamenti un po' sconvolgono le popolazioni europee creano quel senso di smarrimento di angoscia e incertezza anche a livello identitario e infatti in questo momento è qui che l'esibizione dell'altro diventa un processo di rassicurazione di necessità di riaffermare il proprio dominio anche su se stessi mostrare l'altro è fondamentale significa riconoscergli uno status ovviamente di inferiorità rispetto al modello superiore europeo e anche di legittimare dimostrare fissare un sapere il sapere di qual è il ruolo di ognuno nel mondo per l'Europa era il ruolo di guida chiaramente mostrare l'altro decontestualizzato e in maniera teatralmente costruita in modo da renderlo molto più simile a un animale c'era veramente un trattamento disumano per queste persone esibite a partire dalla presenza di gabbie recinti alla morte alle condizioni di vita ai metodi di reclutamento la violenza era veramente ovunque nello sguardo nel ritenere normale questo nel banale nel lato un po' bonaccione di queste esibizioni oltre che nei crimini veri e propri che venivano compiuti questa violenza era legittimata dallo status di inferiorità imposto a queste persone attraverso diciamo questo tipo come vi dicevo di contatto più simile a quello uomo animale ma se c'erano gli esibiti è ovviamente perché c'erano anche degli espositori e dei visitatori molti visitatori divenne un fenomeno di massa ora vi voglio mostrare una parte di un documentario veramente agghiacciante che vi consiglio poi di continuare a vedere se avete voglia è un documentario in lingua francese con i sottotitoli in italiano il link originale lo mettiamo sotto alla descrizione di questo video e se volete rivederlo continuare a vederlo questo è un documentario proprio in cui si parla di questi zoo umani e di come sono nati dopo di che ci ritroviamo qui concludiamo questa breve lezione ma intensa direi vi condivido subito la scheda e ci rivediamo tra circa 30 minuti poco meno ecco vi consiglio di continuare a vedere questo video il link qua sotto per vedere un po' l'evoluzione di questo di questo fenomeno che c'è stato in America e in Europa non neanche molto tempo fa effettivamente cosa possiamo dire in merito ricordiamo sempre cosa può produrre la normalizzazione la naturalizzazione delle cose così come sono perché anche gli oggetti le performance che definiamo arte in modo naturale hanno sempre delle dimensioni che possono essere problematizzate hanno sempre un contesto sociale culturale di potere che ha definito quell'oggetto quella performance come arte da esibire manteniamo un po' questo sguardo di riportare tutto al contesto in cui è stato definito detto questo ci rivediamo la prossima settimana con l'ultima lezione parleremo di economia ma anche di risorse e di potere grazie ancora per vedere il video qua sotto